Relativamente alle notizie riportate da alcuni organi di stampa via web nei giorni scorsi sulla nuova modalità di raccolta differenziata, il sindaco Coppola ritorna sulla questione e precisa che il calendario di raccolta evidenziato nella stessa si riferisce ad una bozza delle modifiche che non sono da ritenersi perciò definitive. Mi spiace molto però che il comportamento di alcuni consiglieri possano danneggiare l'azione amministrativa in maniera così diretta. Noi abbiamo organizzato e stiamo organizzando la nuova campagna per la raccolta differenziata. Come tutte le campagne vanno annunciate in una certa data poi c'è tutto un meccanismo che va seguito e che noi stiamo dicendo da tempo. Però abbiamo mandato al Consiglio Comunale un aggiornamento che dovesse rimanere però una cosa interna rispetto alle attività che l'amministrazione pone e invece il Consiglio di Caccamo dà alla stampa tutto rischiando di bruciare quella che è la nostra campagna per la raccolta differenziata. Allora ancora una volta si rema contro la città di Agropoli. Posso capire se il Consiglio di Caccamo sulla base delle notizie da lui ricevuto si rivolgeva all'amministrazione comunale e eventualmente osservava che in questa campagna ci fossero degli errori in maniera costruttiva. Diceva secondo me qua c'è qualcosa che non va e l'avremmo valutato insieme ma dare alla stampa ingenerando situazioni particolari quasi come se fosse già cominciata la campagna stessa quasi che fosse già arrivato il giorno di cambiare i giorni per la consegna quindi creando confusione inutilmente non aiuta la sua città con questi comportamenti. Quindi gli chiediamo ancora una volta di evitare confusione e di evitare di avere questi comportamenti. La comunicazione che a lui è arrivata che riguarda la campagna era giusto che fosse arrivata ai consiglieri perché potessero esprimere i loro pareri ma che facessero confusione no non ce l'aspettavamo. Quindi di questo ci dispiace e mi auguro che in futuro non si ripeteranno questi comportamenti. Le variazioni che subirà l'attuale calendario di conferimento che resta quindi regolarmente in vigore fino a nuova comunicazione verranno illustrate in un'apposita conferenza stampa fissata per il 20 febbraio alle ore 11 presso l'aula consigliare del comune di Agropoli. Diciamo che purtroppo siamo costretti a dirlo ora anticipando quelli che saranno poi i temi. Il primo aprile sarà il giorno in cui ad Agropoli cambieremo i calendari per la raccolta. Però prima di arrivare al primo aprile ci saranno tutta una serie di incontri in città in cui spiegheremo bene tutto quello che si dovrà fare. Quindi per il momento non cambia niente. Dal primo aprile ci saranno i cambiamenti ma voglio rassicurare alla cittadinanza che fino al primo aprile saremo tutti quanti pronti, bene informati perché nulla possa creare disagio.